Sì, siamo entrato concentrato nella parte defensiva alla parte avanti a fare il suo lavoro meno male, non abbiamo trovato un gol all'inizio del primo minuto e siamo entrato con fiducia al secondo tempo a fare il nostro lavoro che sappiamo fare Noi veniamo qua divertendo, a giocare e a trattare di vincere tutta la partita In questo torneo stiamo giocando la Ligasi, il campionato d'Elite e stiamo affrontando tutti e due la migliore maniera e non mancava un po' di fortuna nell'altra partita che abbiamo perso un po' di concentrazione penso che piano piano stiamo trovando la squadra adatta e vamos a dare tutto il migliore a ogni partita Grazie a Ferran Vélez, buona serata Buona serata anche a lei Ciao caro, complimenti